ciao a tutti bambini da mamma la mamma veronica il piccolo lorenzo cosa abbiamo qua oggi siamo riusciti a ritrovare altri come si chiamano come si chiamano questi pupazzetti monster flex uno lorenzo l'ha già aperto e che trovato dentro mannaggia quindi abbiamo un doppione quindi ragazzi se volete fare cambio con noi abbiamo anche un lupo mannaro bianco in più lo mettiamo via leviamo questa carta vai non ce la fai mannaggia topetti sei sicuro sì arriviamo ti aspettiamo intanto facciamo minuti d'attesa vuoi vi chiedere cosa sono tutti quei palloncini in casa di lorenzo perché tra un po cosa c'hai qua le forbici sono quelli con la punta i bambini non le devono usare chi le usano le forbici con le punte i grandi i bambini sono quelli con la punta adesso tagli la mamma con una mano secondo me esce prova non vorrei tagliare il pupazzetto che c'è devo tagliarlo di più apri così simione abbiamo trovato anche lo simione come doppione quindi bambini abbiamo una carta appoggiamo qui se vi serve lo simione noi ce l'abbiamo lo scambiamo molto volentieri ciao bambini mangiate tante bananine che fanno un sacco bene le bananine mi raccomando tanta energia ciao bambini lì lì dai un po' qui capriamo ok sempre forse è qualcosa di diverso adesso vediamo io ho sempre paura di tagliare il pupazzetto dentro vediamo un po' chi troviamo oggi qui sempre un po' di suspense no 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 l'orso bianco anche questo secondo me ce l'abbiamo vero mamma mia quanti orsi bianchi ciao bambini l'orsetto bianchino un bacio a tutti ma quanti baci ciao orso bianchino questo qua ah c'è un altro abbiamo comprato i cinque noi speravamo cric 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 andiamo un po' c'ho una faccia strana pericolo 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 no abbiamo trovato anche il pupo mannaro grigio che già ce l'abbiamo mamma mia ciao bambini mi raccomando non abbandonate i cagnolini anzi adesso fa tanto freddo e se adottate un cucciolino lo toglierete dal freddo e dal gelo ma lo dovrete amare per tutta la sua vita e lui vi sarà un fedele amico mi raccomando non abbandonate i cagnolini grazie lupo mannaro ma no forse è uno diverso qui ce n'è uno diverso adesso vedremo chi c'è qua dentro forse è uno di quei giusto no io non so i gormiti i gormiti sono un'altra cosa vai chi è? chi è? uno diverso su cinque uno abbiamo trovato diverso meno male chi è quello lì? l'omolabolo vediamo qua c'è scritto allora scimmione uomo o albero hai la ragione Lorenzo se lo fai vedere? sono l'uomo o albero mi raccomando eh non m'altruttare gli alberi noi vi diamo tanto ossigeno dalle nostre foglie e con le nostre radici tratteniamo la terra non facciamo franare i margini dei fiumi che è molto molto importante vero? sì è vero e soprattutto chi è che parla? noi cagnolini ci facciamo la pipì ma no ma non ci dicono ste cose sì sì pipì sull'alberi sì 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 no ma dai va bene poi chi altro ha comprato oggi? so che c'è anche un altro personaggio dormita un gormita scarta la carta scarta la carta che abbiamo trovato oggi? mutac bello è tutto giallo è bello questo? mutac Lorenzo tutte le sere guarda i gormiti lui piace quello del ghiaccio quello del vento mamma mia come è forzuto quello lì bello allora bambini amici se avete qualche altro doppione che volete scambiare con noi noi siamo qui iscriviteci e troveremo il modo per scambiarci i nostri pupazzetti un grande saluto da mamma Veronica e il piccolo Lorenzo piccolo Lorenzo un bacio a tutti i bambini mandaci un bacio Lori manda un bacio a te mi sono albero un bacio guarda in camera saluti ai nostri amici un bacio a tutti un bacio da mister albero